Avendo io sempre lavorato con grandi sequenze fotografiche e soprattutto con il filmmaking, la narrazione è un elemento connaturato nella genesi dei miei progetti, diciamo che è quasi la vera base delle metodologie, delle procedure, della scrittura di un progetto. Infine però per me le narrazioni sono soltanto dei simulacri e dei dispositivi pretestuosi per invitare delle masse più ampie di quelle che sono solitamente le elite del sistema dell'arte a ragionare su una lettura più complessa della trama del reale. In fondo l'unico tema che a me interessa è provare a fare dei progetti previsionali sulle grandi trasformazioni geopolitiche, tettoniche, socioculturali dei nostri futuri possibili. E da questo punto di vista il Severe Selfie rientra perfettamente all'interno di questa affettuosa politica, cioè coinvolgere i giovani come soggetti e autori della descrizione di possibili scenari futuri. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS